Sono tutti ad aglio 65 Scudetto sì, scudetto no In queste ore si stanno leggendo tante cose, tante scemate, tanti opinioni, tanti pareri Pareri di Juventini, pareri di non Juventini Io voglio dire il mio parere A me piace non ragionare con la tasca degli altri C'è un termine un po' più volgare Facciamo che sia ragionare con la tasca degli altri Cioè fare il figo ragionando con la tasca degli altri Non lo voglio, a me non interessa Allora, chiariamo le cose In quest'annata c'è gente che si è spaccata I crociati Per giocare queste partite Parliamo di Meri de Miral Meri de Miral si è rotto il crociato Non ha mai vinto uno scudetto Per quale motivo non dovrebbe poter vincere uno scudetto Perché lo dice qualche juventino filosofo Io non lo voglio Ma tu non c'entri un cazzo Come non c'entro un cazzo io Io se fossi un atleta Che ha disputato un campionato 26 partite su 38 Non 5 partite su 38 2 terzi di campionato su 38 Come si fa in molti sport Se una cosa viene interrotta Fa fede L'ultimo momento Quindi perché non dovrebbe essere assegnato Allora non diamo le retrocessioni Non diamo le promozioni Annulliamo tutto Perché non si capisce perché deve fare fede Non deve essere assegnato il titolo Ma deve essere assegnato tutto il resto Questa cosa me la deve spiegare qualcuno Questo senso di giustizia fai da te E ripeto Se in testa ci fosse stata un'altra squadra Lo scudetto lo assegnavano State pur tranquilli che lo assegnavano Perché poverini ne hanno vinti pochi Ma ne avrebbero anche avuto diritto Allora Messa da parte la storia dei playoff Che è una cagata È una stronzata veramente pazzesca Io vi ricordo una cosa Nel 2006 Alla Juventus sono stati tolti due titoli Le cose sono state sempre poco chiare Ma molto strombazzate in televisione e sui giornali Su alcuni giornali Su alcuni giornali La Juve perse due titoli Due campionati Uno su cui addirittura non c'era nulla Però con la stessa squadra Poi portò l'Italia a vincere i mondiali Sono stati tolti due titoli Uno assegnato a una squadra che arrivò A distanza siderale Contro il parere di chiunque Che diceva che non doveva essere assegnato Fu assegnato Proprio per far rodere il culo E per far odiare ancora di più due tifoserie Perché potevano non essere assegnati Invece uno lo assegnarono di straforo E qualcuno se ne vanta E dice anche che è lo scudetto più bello Che ha vinto Ma ognuno ha la sua etica A me è uno scudetto Avuto così mi farebbe veramente schifo Però Ognuno fa i conti con la sua coscienza E col suo guardarsi allo specchio Quindi Hanno fatto quella buffonata nel 2006 Non erano obbligati a farla Adesso sono Adesso Decidono In questo caso Non ci si può sempre voltare dall'altra parte Come hanno deciso che qualcuno Per qualcuno le cose andassero in prescrizione Perché le hanno fatte passare in cavalleria Adesso decidono in questo caso Promozioni Retrocessioni Fanno fede tutte quante le cose Allora fa fede anche il campionato E se non lo vogliono dare alla Juventus Perché ha un solo punto di distacco Dalla Lazio Cosa opinabile Perché comunque Gli scudetti si vincono anche per un punto Fanno giocare A quelle due squadre Delle partite per dimostrare chi merita Di vincere lo scudetto Ovviamente non una Perché avrebbe fuori la guerra mondiale Magari tre Meglio cinque Alla NBA O stile basket Magari arbitrate da un arbitro straniero Così taglieremo la testa al toro O alternativamente Alternativamente O a Roma E Torino O tutte in campo In campo neutro Senza fare playoff Dove le squadre Battute ieri Rientrano dalla porta Di servizio Perché alla Juventus Hanno già tolto due titoli Ma non sono gli unici due titoli Che sono stati tolti alla Juventus Perché la maggior parte dei tifosi juventini Questa cosa non la sa Nel 1908 E nel 1909 La Juventus vinse due campionati Regolari In una Lega Che poi diventò la Lega di Serie A di oggi Misteriosamente Non si sa perché hanno riconosciuti Visto che siamo in epoca In cui c'è gente che Vuole gli scudetti revocati Tipo il Torino Tipo la Lazio Io non entro nel merito Perché non mi... Ho il Genoa Io non entro nel merito Perché non conosco L'oggetto del contendere Ma quegli scudetti lì Non avevano nessuna Nessuna ombra Campionato iniziato E finito E vinto Ma evidentemente La famiglia Agnelli All'epoca Ancora non c'era Arriva dopo Successivamente E quindi quegli scudetti Per cui qualcuno Ha sudato Per cui qualcuno Ha combattuto Per cui qualcuno Si è fatto male Sul campo E per cui qualcuno Fa parte Della storia della Juventus Sono stati dimenticati Quindi non ne mancano Soltanto i due di Calciopoli Mancano i due Vinti regolarmente Nel 1908 E 1909 Facciamo che gli facciamo Perdere anche questo Sarebbe il quinto Ci sono squadre in Serie A Che non li hanno Cinque scudetti Vinti Nei addirittura Ne avremmo cinque Tolti E allora col cazzo Io lo scudetto Lo voglio E se non me lo vogliono dare Subito Me lo voglio giocare Non faccio il filosofo Ma io non lo voglio Perché ci sono gli snob Ci sono gli snob Della Champions Ma ne frega un cazzo A me della Champions Se no Non mi abbonerei A Sky Non guarderei il campionato Non mi incazzerei Non mi incazzerei Con Sarri Perché perde Le partite Cioè non avrebbe senso Incazzarsi Se non ti interessa Che cazzo ti incazzi Che c'è anche un po' Di incoerenza Nella gente Ci si incazza poi Per il campionato Quando poi Alla fine della fiera Si dice A me di avere lo scudetto A me interessa Non me lo dai subito Me lo fai giocare Con la seconda squadra La Lazio Tre partite Cinque partite Come cazzo vuoi Ma me lo fai giocare E come fai vari I posti Di promozione Di retrocessione In tutte le categorie I posti per le coppe Dai la possibilità anche A chi ha giocato Per vincere Di vincere il trofeo E lo scudetto 1908-1909 È una vergogna Io non verrò mai Allo Juventus Museum Finché non ci sarà Non ci sarà giustizia Per quei due scudetti Un saluto Dalli U65